Buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi in ascolto da Fernanda, saremo in vostra compagnia fino alle ore 17 in regia, l'assistenza tecnica di Andy, che saluto, in esterna con noi i nostri tecnici, Mesec Michael Ramadas, abbiamo aperto questo sabato musicale del 20 di luglio 2013 con Zucchero Fornaciari che ci ha fatto ballare con il mare impetuoso al tramonto. Come avete già ascoltato da questa mattina, da Patrizia che saluto, mentre continua per me questa maratona musicale anche nel pomeriggio. Oggi due ditte, Grace Textiles e Grande Cheese e dall'altra parte oggi ho con me il simpaticissimo Maurizio Becci, avete avuto modo, già modo, di ascoltarlo in radio, soprattutto per il lunedì sera con Lo Sport. Buon pomeriggio Maurizio. Buon pomeriggio Fernanda e buon pomeriggio a tutti, oggi mi trovo in uno meraviglioso posto, veramente un negozio eccezionale, mi trovo nella sede storica di Grande Cheese al 175 di Milvan Drive. Qui siamo veramente in famiglia devo dire Fernanda perché tutto il personale è gentilissimo, ci trattano veramente bene, come trattano veramente bene tutti i clienti e tutte le persone che ci vengano a trovare. Ad esempio per il barbecue di salsicce e spiducci che in questo momento appunto stanno preparando, c'è una coda chilometrica, una coda veramente chilometrica e quindi venite più possibile a trovarci. E oggi l'offerta di oggi, diciamo, è che con una spesa minima di 60 dollari riceverete una ricotta di 400 grammi in omaggio. Degustazioni in tutti i negozi Grande Cheese perché qui siamo nella sede storica ma ci sono ben altri tre negozi, quattro negozi scusate, di Grande Cheese e poi venite a trovarci perché ci sono le degustazioni di diversi tipi di formaggi, prosciutto, mortadella, tiramisù, lasagne, pizza, pasta al forno. E qui appunto dove siamo potete assaggiare anche le salsicce e gli spiducci. Ma andiamo a vedere un paio o tre special di oggi, per esempio il formaggio fresco grande, due per soli 12 dollari, i passiti grandi, quattro per soli 12 dollari e poi la ricotta Grande Cheese da 650 grammi, due per soli 9 dollari. E poi il Blue Cheese, per gli amanti appunto del Blue Cheese, marca Castello, 7,99 la libra invece di 9,99, quindi due dollari risparmiati. E' tutto per adesso, se vi ricordo siamo appunto da Grande Cheese al 175 di Mil Van Drive, venite a trovarci, state con noi. Ma adesso torniamo alla musica con la stupenda voce di Giorgia e con Via Col Vento. Ed era Daniele Silvestri con la canzone A Bocca Chiusa del Festival di Sanremo del 2013. Oggi mi trovo in trasferta nel grande negozio Grande Cheese al 175 Mil Van Drive, zona di Dunsview e Weston, la sede originale. Ma adesso andiamo a sentire come vanno le cose invece da Fernanda. Eccomi qua, eccomi qua Maurizio, tutto va bene, tutto procede benissimo e io devo ricordare I gemelli diversi con il sorriso di una donna e io mi trovo sempre qui nel grandissimo negozio Grande Cheese al 175 di Mil Van Drive, zona di Dunsview e Weston Road, la sede originale. Sede originale perché ci sono altri negozi, adesso voglio nominarmi in nome di altri tre negozi e successivamente lo farò anche degli altri che adesso non ho tempo di appunto pronunciare. Il primo è al 468 di Gevland Drive e un altro al 97, 37 di Young Street a Richmondville e al 22 di Orfus Road. E noi siamo appunto nella sede originale al 175 di Mil Van Drive. Fra le tante offerte qui oggi disponibile c'è la pizza Party Sides, appena sfornata con tre toppings, 40 fette. Pensate voi a solo 19,99. Questo e tutti gli altri super special lo potete trovare in tutti i negozi Grande Cheese. Venite a trovarci, siamo qui al Grande Cheese al 175 di Mil Van Drive. Vi aspetto. E al punto 7, buon pomeriggio, buon sabato da Fernanda e da Maurizio che si trova da Grande Cheese e subito ci fa sentire le offerte di oggi. Maurizio. Sì, carissima Fernanda, come hai detto bene, sono qui nel bellissimo e grandissimo negozio Grande Cheese al 175 di Mil Van Drive, zona di Dunsview e Weston, nella sede proprio originale. L'offerta di oggi è per una spesa minima di 60 dollari, riceverete una ricotta di 400 grammi in omaggio. Venite a trovarci, ci sono tante lecornie da assaggiare appunto e vi ricordo che tutte queste offerte, come ad esempio il formaggio fresco grande 2 per 12 dollari, i passiti grande 4 per 12 dollari, il fior di latte ad esempio a 3,99, poi troverete anche ravioli, tortellini con carne e formaggio, gli gnocchi, veramente tantissime cose in tutti i negozi Grande Cheese. Vi ne ho ricordato tre negozi prima, adesso vi ricordo anche gli altri, per esempio a Maple, al 99,29 di Kill Street e nella nuova sede di Grande Cheese al 551 di City View Boulevard a Vonn e poi qui dove siamo noi appunto al 175 Mil Van Drive. Venite a trovarci, ci sono veramente tante cose buone, tanti assaggini e perché no, ci possiamo fare anche un espresso insieme a me. Ok, Fernanda, a te la linea, carissima. E va bene, carissimo Maurizio, io intanto si procede con la musica e lo facciamo con questo brano del... Ed era la voce stupenda di Sandro Giacobbe nell'esibizione con questa canzone Tutta la vita del 2007. Ebbene sì, Maurizio oggi si trova insieme alla CIN in trasferta, si trova a Grande Cheese al 175 di Mil Van Drive, zona di Dunsview e Weston, la sede originale di Grande Cheese. Venite a trovarci, come stanno venendo a trovarci tantissime persone, c'è anche la coda per il barbecue, sono state messe delle salsicce proprio adesso arrivate, quindi venite a trovarci, venite a trovare anche me, perché no. Quindi vi ricordo l'indirizzo, siamo al 175 di Mil Van Drive, zona di Dunsview e Weston, nella sede originale di Grande Cheese. E torniamo adesso alla musica, ebbene sì, Claudio Baglioni con Le Isole del Sud. Bellissima questa canzone di Malika Yen, esse poi del Festival di Sanremo del 2013. Oggi siamo in doppia trasferta, la nostra carissima Fernanda è da Grace Textile, io mi trovo da Grande Cheese, il favoloso negozio o supermercato, si può aggiungere che hanno veramente di tutto, mi trovo al 175 di Mil Van Drive, zona di Dunsview e Weston. Venite a trovarci, come stanno venendo tantissime persone, perché? Perché ci sono degustazioni di tutti i tipi, per esempio formaggi, prosciutto, mortadella, tiramisù, lasagne, pizza, pasta al forno. Ed inoltre fuori è appostato un bel barbecue, dove stanno appunto cucinando salsicce e spiedini. Veramente una cosa meravigliosa e vi ringrazio. Le offerte di oggi, a parte il barbecue, le offerte di oggi sono valide in tutti i negozi Grande Cheese, che io adesso vi ricordo. Il primo è al 468 di Jevland Drive, oppure potete andare al 9737 di Yonge Street a Richmond Hill, o al 22 di Orfus Road. Inoltre a Maple, al 9929 di Keel Street, oppure al 551 City View Boulevard a Vaughn, e oppure venite a trovare me e noi della CIN al 175 di Mil Van Drive, per assaggiare veramente di tutto, dalla pizza ai formaggi, a qualsiasi cosa, la salsiccia cotta al barbecue. Ma adesso vorrei appunto tornare, tornare sicuramente alla musica, e con una storia semplice, canzone dei Negramaro. Interpelliamo subito Maurizio, che si trova da Grande Cheese. Maurizio, carissimo, allora, l'hai mangiata la salsiccia? Sì, cara Fernanda, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Sì, l'ho mangiata, era molto buona, ce ne sono tantissime. C'è anche una discreta coda per venire a mangiarla, ad assaggiarla, quindi mi raccomando, continuate a venire numerosi qui da Grande Cheese. Siamo nella sede storica al 175 di Mil Van Drive, zona di Dunsview e Western Road. La sede è proprio originale, mi raccomando. E oggi, dicevo, l'offerta per una spesa minima di 60 dollari, riceverete una ricotta di 400 grammi, in omaggio. E per quanto riguarda tutti i negozi Grande Cheese, non solo qui dove ci troviamo noi, sono in atto degustazione di diversi tipi, di formaggi, bocconcini, prosciutto, mortadella, tiramisù, lasagne, e poi la pizza. La pizza è anche disponibile, quella con 40 toppings, quindi, insomma, diciamo che è una bella pizza per tutta la famiglia. Ma vediamo alcune offerte, per esempio, i passiti grande, 4 per soli 12 dollari, oppure il formaggio fresco grande, 2 per 12 dollari, oppure la ricotta grande cheese, buonissima, 650 grammi, 2 per soli 9 dollari. Inoltre, anche il Grana Padano, scelto, 3 stelle, 10,49 la libra, invece di 12,99, quindi un grande risparmio. E poi la fontina Danish, 9,99, invece di 11,99. Inoltre, ricordo che su ordinazione, in tutti i negozi, Grande Cheese, sono disponibili vassoi per party, oppure per eventi, appunto, speciali. Quindi vi ricordo, venite da Grande Cheese, venite a trovarci, al 175 di Milvam Drive, zona di Dunsview e Weston Road. Ma adesso andiamo al, torniamo alla musica, su 100.7 Cinefm, Little Tony con Bada Bambina. Ed era Irene Fornaciari, con la canzone presentata a Sanremo Giovani, nel 2009, Spiove il sole. Ma torniamo alle cose importanti, alle grandi cose, perché Grande Negozio, il nome Grande Cheese. Siamo al 175 di Milvam Drive, zona di Dunsview e Weston, la sede originale di Grande Cheese. Volevo dire che se qualcuno di voi, in famiglia, stasera vuole mangiare pizza, la può ordinare, telefonando al 416-740-8883. Tutti ingredienti, appunto, di Grande Cheese. Ma adesso, vi ricordo, appunto, siamo qui, a Grande Cheese, sede originale, al 175 di Milvam Drive, zona di Dunsview e Weston Road, e fino alle 5 vi faremo compagnia, insieme a Fernanda, che è dall'altra parte, a Greystack Styles. Ma adesso torniamo alla musica, in questo pomeriggio caldo e soleggiato, è la volta di Emma, con la canzone Amami. Ed era l'inconfondibile voce dei Modà, se si potesse non morire, la canzone del Sanremo 2013. Ma Maurizio Beci, vi aspetta qui in trasferta, nella doppia trasferta, io sono a Grande Cheese, al 175 di Milvam Drive, zona di Dunsview e Weston Road, la sede originale per un grandissimo negozio, appunto, si chiama Grande Cheese, perché è veramente grande e veramente grandi, sono anche le offerte di oggi, ad esempio, per una spesa minima di 60 dollari, riceverete una ricotta di 400 grammi, in omaggio, e in tutti i negozi, Grande Cheese, degustazioni di diversi tipi di formaggi, bocconcini, prosciutto, mortadella, il tiramisù, le lasagne, la pizza, e per quanto riguarda, appunto, la pizza, la potete ordinare in tantissimi gusti che preferite, per esempio, la pizza alla romana, pizza margherita, pizza paesana, la potete ordinare proprio direttamente qui a Grande Cheese, telefonando al 416-740-8833. Tutte le offerte di oggi sono valide in tutti e sei negozi Grande Cheese, per esempio, al 468 di Jevland Drive, oppure al 97-37 Young Street a Richmond Hill, oppure al 22 di Orfus Road, e poi anche a Maple, al 99-29 di Kiel Street, e al 551 di City View Boulevard, a Vaughn. Ma venite a trovarmi qui, al 175 di Milvan Drive, appunto, la sede originale. Ma adesso torniamo, in questo pomeriggio bellissimo di sole, un bel caldo, 27 gradi, torniamo alla musica, e la grandissima Laura Pausini con Tra te e il mare. Buon pomeriggio a tutti voi in ascolto da Fernanda e Maurizio, esattamente sono le 16 e 10 minuti primi, e quindi chiamiamo subito il nostro Maurizio, che oggi tra caciocavalle, ricotta e salsiccia, hai mangiato Mauri? Allora, cara Fernanda, ho mangiato, e devo dire, anche tante squisitezze, a parte la salsiccia, come dicevi prima te, e poi ho assaggiato anche i bocconcini, la torta con la ricotta, una cosa favolosa, e quindi, insomma, mi sono riempito abbondantemente la pancia, sempre stando dietro alla linea, però, insomma... Mi raccomando, domani dieta, eh? Eh sì, ti ho preso qualcosa anche per te, poi ti vedremo. Ah, come sei gentile. Ma figurati, figurati. Per Gaetano ci hai pensato, per Gaetano. Eh, per Gaetano ho dovuto ordinare un, un truck, perché, insomma, lui mangia abbastanza, e quindi andiamo. Va benissimo, parlaci di grande cheese. Sì, è tutto grande, perché grande negozio, e appunto grande cheese. Siamo qui al 175 di Milvan Drive, zona di Dunsview e Weston Road, nella sede originale, appunto, di questo magnifico negozio. Vi voglio dare qualche special, che appunto oggi potete trovare in qualsiasi negozio grande cheese, sono ben sei negozi, voglio ricordare. Per esempio, i passiti grande, quattro per soli dodici dollari, oppure il formaggio fresco grande, due per dodici dollari, la ricotta grande cheese, 650 grammi, due per soli nove dollari, oppure fior di latte grande, 3,99 ognuno, quindi, insomma, eppure, per gli amanti del grana padano, cioè il grana padano ho scelto tre stelle, con un ottimo sconto, 10,49 la libra, invece di 12,99. Per gli amanti della fontina, grande cheese propone la fontina Danish, a 9,99 la libra, invece di 11,99, quindi un grande risparmio. Inoltre, potete ordinare anche vassoi per party o per eventi speciali in tutti i negozi grande cheese. E allora, io vi dico che stiamo alla sede originale, ripeto, di grande cheese, al 175 di Milvan Drive, zona di Dunsview e Weston Road, la sede originale. Adesso torniamo però su 100.7 FM, Cine FM, con grande musica, e il grande, appunto, anche lui grande, Gianni Morandi, se non avessi più te. Ed era Gianni Fiorellino, una canzone tutta da ballare, infatti mi stavo muovendo qui nella mia postazione, perché è veramente una canzone che ha ritmo, bom, bom, bom. Io ricordo, Maurizio, per un'altra mezz'ora, sarà qui in trasferta, nella seconda trasferta di oggi, da grande cheese, grande negozio, grandi super offerte, siamo al 175 di Milvan Drive, zona di Dunsview e Weston Road, nella sede originale. ricordo l'offertona di oggi, con una spesa minima di 60 dollari, riceverete una ricotta di 400 grammi, completamente ovviamente gratis, in tutti i negozi, grande cheese, diverse disgustazioni di formaggi, prosciutto, mortadella, ma tantissimo, tantissimo altro. Vi ricordo, venite a trovarci al, da grande cheese, al 175 Milvan Drive, zona di Dunsview e Weston, la sede originale. Torniamo alla musica, andiamo a Zucchero, come il sole all'improvviso. Nel mondo. E abbiamo ascoltato Francesco Renga, con la canzone Ci Sarai. Ebbene sì, riprendo la linea qui, da grande cheese, siamo al 175 di Milvan Drive, e devo dire che siamo giunti, purtroppo, ai saluti, ma io volevo ringraziare tutto il favoloso personale, gentilissimo personale, di grande cheese. Inoltre, volevo anche ringraziare, dall'altra parte, della, della città, diciamo, Fernanda, perché è stata gentilissima, come sempre, e, mi sono trovato, veramente bene, qui a grande cheese, veramente un'accoglienza, tantissime persone sono venute, è stata una bella giornata, come lo è, perché c'è il sole, quindi una bellissima giornata. volevo dedicare la prossima canzone, appunto, al fantastico personale, di grande cheese, e, ehm, una calda buonasera, vi volevo dare a tutti, da parte mia, di Maurizio Beci, alla prossima. Voglio dedicare, appunto, questa prossima canzone, Alex Britti, con Baciami. di Maurizio Beci, di Maurizio Beci,